1967-2017, compie 50 anni l'ospedale pugliese di Catanzaro, una risorsa del capoluogo, un'eccellenza nel comparto sanitario dell'intera regione. Così il sindaco Sergio Abramo, presentando l'iniziativa dell'associazione Catanzaro Capitale, che ha pensato bene di raccogliere in una serie di scatti fotografici i primi 50 anni del presidio ospedaliero. Nel 24 al 26 febbraio, infatti, il complesso monumentale del San Giovanni, nel centro della città, ospiterà la mostra Catanzaro Capitale della Salute. Le foto scelte raccontano l'inaugurazione della struttura, ma anche la storia dei grandi medici che hanno lasciato il segno, come ha ricordato Giuseppe Pisano, presidente dell'associazione Catanzaro Capitale. Nel dottore Bassi a Delellis, da Alberti a Greco, abbiamo voluto rendere omaggio a chi ha scritto pagine di storie importanti per la sanità calabrese. E l'idea è stata subito accolta dall'amministrazione comunale del capoluogo, ha detto in conferenza stampa l'assessore alle politiche sociali, Gian Paolo Mungo, che ha visto nell'iniziativa una buona dose di passione e spirito di appartenenza. Nel corso della conferenza, alla quale ha preso parte anche il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Giuseppe Panella, il sindaco Abramo ha ricordato che l'ospedale è stato da poco ristrutturato al suo interno. Si attende ora lo studio di fattibilità per il nuovo ospedale. È necessario avere una struttura antisismica, ha detto il primo cittadino. Il progetto dovrebbe partire tra pochi giorni. Speriamo di avere presto un presidio nuovo, soprattutto per dare un sostegno forte alla grande professionalità dei nostri medici. Rossella Galati per la Cineus 24.